Benvenuti a una nuova puntata di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Iniziamo oggi con una nuova iniziativa, l'operazione Studio Trasporti, nata dalla collaborazione tra la Banca Popolare di Vicenza e l'azienda Trasporti Veneto Orientale. Ne abbiamo parlato con il presidente della TVO, Fabio Turchetto. Siamo in compagnia del presidente della TVO, Fabio Turchetto, per parlare di un'iniziativa molto particolare, l'operazione Studio Trasporti. Presidente, come nasce l'idea di una collaborazione con la Banca Popolare di Vicenza e di cosa si tratta? È una piccola goccia in un mare di un'economia che sta andando male, è in un mare di una situazione di molte famiglie che con i vari aumenti che ci sono stati, non ultimo gli aumenti delle tasse che chiaramente hanno colpito tutti, mi sono posto il problema quale poteva essere quel piccolo aiuto che una società come la nostra poteva dare a queste famiglie, calcolando poi le personeziane, gli studenti, i lavoratori, sono le fasce che in questo momento stanno forse soffrendo di più. Mi sono posto il problema che forse sborsare 300, 400, 500, 600 Euro in un'unica soluzione per una famiglia oggi fosse un problema. Abbiamo trovato questa formula che è molto semplice, la Banca si è resa disponibile di anticipare l'intera somma dell'abbonamento, quindi la possibilità di pagare in un'unica soluzione, non caricando questo anticipo, quindi questo prestito, perché alla fine è un prestito, di nessun tipo di interesse, quindi è proprio zero. Se lei chiede 600 Euro, 600 Euro restituirà, ma non basta, perché poi chiaramente a TV ha voluto fare la sua parte. Se lei acquista un abbonamento 12 mesi, per dire, e lo paga in unica soluzione tramite questa iniziativa che noi stiamo facendo con la popolare di licenza, a TVO praticamente vi fa risparmiare un mese. Quindi invece di pagare 12 mesi, l'utente ne paga 11. Una particolarità importante di questa operazione è la possibilità per gli studenti di estendere questa agevolazione anche ad altre spese scolastiche, no? Si tratta che tutti gli studenti possono acquistare materiali, ma non solo materiali, per materiali intendo dire libri e quant'altro. Io credo che oggi la funzione, per esempio, dei vari tablet che i giovani usano debbano essere sfruttati, quindi c'è anche la possibilità di comprare anche questo tipo di cose. Anche queste sono, e qui dobbiamo veramente ringraziare la sensibilità della popolare di licenza, perché è una cosa che, parlandone, hanno deciso di fare. Anche questa è una cosa che viene finanziata, anche questa, a tasso completamente zero. Significa che se, anche qui, se spendo 100, 100 restituisco, non restituisco 101. Dove si possono rivolgere le persone per richiedere informazioni in marito a questa operazione? Tutte le informazioni del caso, innanzitutto c'è una piccola brochure, che è questa che ho in mano, che spiega esattamente l'intero progetto. Nel caso in cui si vogliano invece spiegazioni più dettagliate, si può rivolgere tranquillamente a tutti gli uffici e agli sportelli di ATWO, che chiaramente conoscono bene la cosa, oppure rivolgersi direttamente alle sedi della popolare di licenza, che sono nel territorio. ATWO, essendo una società partecipata pubblica, è molto attenta a queste cose. Stiamo valutando anche altre iniziative. Stiamo cercando di fare un progetto per fare in modo di dare come minimo un impiego, magari per sei, sette, otto mesi. E quindi credo che ci debba essere da parte di tutti, e quindi fra questi tutti ci mettiamo anche noi, uno sforzo per aiutare queste persone e queste famiglie che vanno in difficoltà. Ecco, questo è nella logica, rientra nella logica di questo primo progetto, che poi ha una logica che dovrebbe espandersi. Ecco, tutto qua. Ringraziamo il presidente della TVO, Fabio Turchetto, per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Grazie.